Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Peugeot, Citroen, Retail, Milano, anche se noi ci troviamo a Sesto San Giovanni, accanto a me Veronica. Ciao! Grazie Rosi, buonasera a tutti. In questo momento ci troviamo nel salone delle autovetture nuove dove troverete tutta la nostra gamma di prodotti, in particolare la gamma SUV 2008, 3008 e 5008 su cui potrete trovare delle offerte personalizzate a livello di finanziamenti e le nostre nuove proposte sul noleggio a clienti privati. Inoltre fuori troviamo anche un'esposizione di veicoli commerciali. La nostra sede è facilmente raggiungibile, ci troviamo a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 tra lo stadio Breda e il centro commerciale Sarca, raggiungibile tramite la viale Fulvio Testi arrivando dall'Abrianza e dall'autostrada 4 Torino-Venezia e da viale Zara arrivando da Milano. La sede vi propone anche un centro di assistenza, ovviamente è a supporto di tutte le vostre necessità. Vi ricordiamo gli orari, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 e ora passiamo la linea ai nostri colleghi dell'usato che vi esporranno tutte le nostre offerte del mese sulla vasta gamma di veicoli commerciali, di vetture aziendali, vetture chilometri zero e usati in offerta. Grazie Rosi. Grazie a te Veronica. Allora andiamo a vedere queste proposte davvero molto interessanti. Buongiorno, sono Pergo, benvenuti alla Peugeot di Sesto San Giovanni. Vi presentiamo le nostre occasioni. Partiamo da una 508 Station Vagon, 2000 Turbo Diesel, blu HDI, 180 CV con cambio automatico, allestimento GT, una vettura full optional con navigatore, tetto panoramico, cerchi lega da 19, senso di parcheggio, retrocamera, a praticamente tutto, con 6.000 km a 23.900 euro, immatricolata nel 2017, nostra autovettura aziendale. Poi passiamo a una Peugeot 508 RX-H, allestimento con motore ibrido, sempre una vettura full optional, che ha percorso 14.000 km del 2016, fine 2016, a 28.500 euro. La vettura completa di tutto, ibrida, che vi consente di circolare sempre. Poi passiamo a una Peugeot 308, sempre un'autovettura aziendale, questa è già direttamente da noi, allestimento GT Line, 2000 Turbo Diesel, 150 CV con cambio automatico, con tutti gli accessori della GT Line, con tetto panoramico, cerchi lega, retrocamera, ha percorso solo 993 km a un prezzo di 23.700 euro. Poi passiamo a un'altra Peugeot 308, Station Wagon, questa volta un 1.6 Turbo Diesel Blue HDI 120 CV, in allestimento Allura, con 7.300 km, immatricolata nel 2017, a 18.700 euro. Grigio Artenza. Poi passiamo a un'altra Peugeot 308, questa volta con cambio automatico, con motorizzazione 1.6 Turbo Diesel 120 CV, Blue HDI, del 2017, ha percorso solo 6.600 km, con tetto panoramico, cerchi lega, navigatore, bluetooth, a 19.800 euro. E poi passiamo a un'auto abbastanza introvabile, quindi prenderà il volo, che è una 308, Station Wagon, 1.2 benzina Purtec, 110 CV, in allestimento Active, ma completa di tutto, quindi navigatore, senso di parcheggio, cerchi lega, del 2014, ha percorso 64.000 km, a un prezzo di 12.500 euro. Eccoci qui, adesso passiamo a una Ford Fiesta 1.4, 95 CV, doppia alimentazione, benzina e GPL, del 2012, che ha percorso solo 73.000 km, è molto bella, con climatizzatore, cerchi lega, ha un prezzo di soli 7.200 euro. Poi passiamo alle introvabili nuove Citroen C3, autovetture aziendali, del gennaio 2017, ha percorso 9.000 km, da un allestimento Shine, 1.2, 82 CV, quindi guidabile anche dai neopatentati, con climatizzatore, ABS, SP e l'assistenza alla correzione di carreggiata. Un'altra nuova C3, sempre 1.2, purtec, 82 CV, questa volta in allestimento Phil, con un prezzo più basso, 10.900 euro, sempre immatricolata a gennaio 2017, ha percorso solo 3.700 km, è un'autovettura molto bella, è spaziosa. Poi andiamo a una Peugeot 108, 1.000 benzina, 68 CV, immatricolata nel 2017, ha 8.600 euro, un allestimento Active, un'autovettura con il mirror screen, dove potete collegare il navigatore, climatizzatore, ABS, servo sterzo e gli airbag. E poi passiamo a una Peugeot 108 Top, che è una vettura con la capota elettrica, immatricolata nel 2015, che ha percorso solo 25.000 km, e viene 8.200 euro, ed è un 1.000 benzina, sempre guidabile dai neopatentati, una vettura molto sfiziosa. Non passiamo alla macchina venduta perché è venduta, e passiamo invece a una Citroen C1, sempre con motorizzazione 1.000, 68 CV, in allestimento Phil, 5 porte, 68 CV, con 13.000 km, immatricolata nel 2017, ha un prezzo di 8.600 euro. Poi passiamo a un'autovettura un po' più low cost, come si suol dire, che è una Citroen C1 Amici, 5 porte, con 57.000 km, del 2008, voilà, a soli 4.500 euro, una vettura dotata di climatizzatore, servo sterzo, airbag, sono un'ottima vettura, o per cominciare, o per brevi spostamenti. Eccoci qua, adesso siamo arrivati a una Citroen DS5, immatricolata nel 2014, ha percorso solo 77.000 km, è una vettura 1.600 turbodiesel, 115 CV, allestimento so chic, con il cambio automatico, e ha persino il doppio treno di gomme e cerchi, quindi invernali ed estive. A 14.800 euro, non mi ricordo se l'ho detto, lo dico lo stesso, al massimo l'ho detto due volte, poi passiamo a una DS4 Crossback, 1.600 turbodiesel, blu HDI, 120 CV, una vettura a chilometri zero, infatti dobbiamo ancora attaccargli la targa, immatricolata nel 2017, ha un prezzo di 19.900 euro. Poi passiamo a una bellissima Kia SED, che ha percorso pochissima strada, 15.800 km, immatricolata sempre nel 2017, 1.600 turbodiesel, 110 CV, allestimento attivo, una vettura molto bella, praticamente nuova, con anche 5 anni di garanzia, se non vado errato, a 12.400 euro. Poi torniamo sul nostro prodotto nostrano, una nuova Citroen C3, 1.600 blu HDI, 100 CV, è un'autovettura asfiziosa che consuma poco, in allestimento Shine, con i circhi Lega, ha percorso solo 20.700 km ed è immatricolata a fine 2016, a 13.800 euro, una vettura molto bella, con il tetto bicolore. Poi abbiamo una DS3, 1.600 turbodiesel, sempre blu HDI, 100 CV, Soshike, oro 6 naturalmente, che ha percorso 14.900 km, immatricolata nel 2016, a 13.300 euro, anche questa molto sfiziosa, bicolore, blu e nera. E poi andiamo a un'autovettura aziendale, quindi sempre con pochissimi chilometri, 2.900 km, è un 1.6 turbodiesel da 5 CV, in allestimento all'UR, con navigatore, sensore di parcheggio e retrovisore ripiegabile elettricamente, a 13.400 euro, immatricolata a luglio 2017. Un saluto anche da Andrea, ora passiamo alle categorie SUV e mini SUV. Qui di fianco una Volvo XC60 2.400 turbodiesel, 163 CV, cambio automatico, 4 ruote motrici, una vettura del gennaio 2012, con 72.000 km a 18.900 euro. Invece qui abbiamo esposto la nostra Hyundai iX35, ed è un 2.000 diesel, 136 CV, due ruote motrici, anche lei è una vettura dell'ottobre 2012, con 72.000 km a 13.900 euro, completa anche lei di navigatore, cerchi in lega e sensori di parcheggio. Mentre qui abbiamo la disponibilità di due Cactus, una benzina e una diesel. In questo caso abbiamo un 1.2 benzina, 82 CV, l'allestimento Shine, che è l'allestimento top di gamma. È una vettura del gennaio 2015, con 45.000 km, a 10.400 euro. Mentre da questa parte, questa 1.6 turbodiesel da 100 CV, anche lei allestimento Shine, che è l'allestimento top di gamma, è una vettura del marzo 2016, con 58.000 km, a 13.200 euro. E ora presentiamo la nostra disponibilità per quanto riguarda le Peugeot 2008. In questo caso abbiamo un 1.6 diesel 100 CV, una vettura aziendale con soli 945 km. È una vettura del luglio 2017, completa di tutto, dal navigatore al park assist, agli interni in pelle. È esposta a 19.200 euro, mentre da questa parte abbiamo sempre un 2.8, un 1.6 diesel 120 CV, ed è una vettura dell'aprile 2016 con 14.500 km, anche lei completa di grip control, navigatore e sensori di parcheggio. È esposta a 15.800 euro. Vi presento queste nuove Citroen C3, sono tutte e due 1.2 benzina, 110 CV, cambio automatico, vetture dell'aprile 2017, con 14.000 km, complete di tutto, l'allestimento è quello Shine, il top di gamma, con sensori di parcheggio, touchpad da 7 pollici, mirror screen, controllo di carreggiata. E sono esposte a 13.800 euro. Passiamo alla nostra disponibilità per altre vetture Peugeot 508 Station Wagon, a partire da vetture più nuove, chilometri zero, a quelle usate. Un esempio è questa 508 1.6 diesel 120 CV, automatica, del gennaio 2017, con 9.289 km, esposta a 19.800 euro. Oppure questa Peugeot 508 Station Wagon, chilometri zero, è un 2.0 diesel 150 CV, business manuale, del marzo 2017 a 19.900 euro. Oppure possiamo passare su una più usata, in questo caso una vettura del febbraio 2013 con 76.000 km, ed è un 2.0 diesel 163 CV, automatica, col tetto panoramico a 13.800 euro. Ora concludiamo con i nostri veicoli commerciali, come questo Dacia Docker, un veicolo del luglio 2017 con 4.888 km, ed è un 1.6 benzina GPL 102 CV, completo di navigatore e sistemi di protezione per i portelloni posteriori, esposta a 10.400 euro. Oppure questo Citroen Jumping, un veicolo del giugno 2015 con 3.568 km, ed è un 2.0 diesel 160 CV, eccusi, esposto a 17.900 euro. Io vi saluto e vi aspetto qui nel nostro salone di Sesto San Giovanni.